ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video oggi come avete letto dal titolo andremo a vedere se ha senso anzi se avrà senso comprare iphone 16 quando verrà presentato come sappiamo ogni anno a settembre partendo dal presupposto che oggi parleremo esclusivamente di tutte quelle novità che ci saranno sul modello base magari modelli più costosi chiamati pro li conserveremo per un altro video ancora e che non ha senso cambiare di danno in anno il proprio dispositivo a mio parere innanzitutto notizia per quanto riguarda il display infatti dovrebbe allargarsi fino a raggiungere una dimensione di 6.3 pollici attenzione però questo non significa che andranno di gran lunga ad aumentare le dimensioni dello schermo ma ridurranno i bordi neri quasi al minimo quindi andando avanti in questo modo arriveremo finalmente ad un display tutto schermo ed anche la sua luminosità in particolare i nits dovrebbero essere migliorati per garantire anche una migliore visualizzazione sotto lo scoppio del sole anche i tasti dovrebbero essere rinnovati e quindi non più tasti fisici come abbiamo visto fino a questo momento ma il feeling dovrebbe essere lo stesso adottato per la realizzazione del touch edd sui vecchi smartphone si intende secondo me è una chicca davvero interessante sono curioso di vederlo e provarlo soprattutto la stazione sappiamo che è uscito già quest'anno però dovrebbe essere implementato anche sui modelli base ma non solo l'action button infatti dovrebbe essere inserito un altro ancora in questo caso verrà chiamato capture button ed in uno scorso video avevo già detto che se continuiamo così non avremo neanche più la possibilità di poterlo tenere in mano sappiamo che nell'ultimo periodo apple sta puntando in particolare alle fotocamere infatti questa è una funzione che riguarda proprio loro insomma per non farla lunga cliccando questo pulsante possiamo accedere subito ad un'area predefinita della nostra app fotocamera video slow motion time lapse quello che ci pare a noi ricorda molto quella cover che avevano già progettato per i modelli di iphone 11 pro e pro max che oltre a fare da power bank permetteva proprio questa funzione dovrebbe poi cambiare anche il comparto fotocamere abbiamo visto dovrebbe essere molto simile ai modelli di iphone 12 quindi un passo indietro non proprio perché giustamente sarà un po diversificato normalmente per poter riconoscere i due dispositivi e poi la scelta non è stata tanto per cambiare il design anche se devo ammettere che le lenti disposte in diagonale non è che mi facevano impazzire quindi meglio così questa disposizione in particolare ci permetterà di registrare i video in audio spaziale e quindi saranno compatibili disponibili anche sul vision pro attenzione anche la batteria dovrebbe essere migliorata circa del 3 o 4 per cento e non solo perché upgraderanno anche i caricatori e anche di molto devo dire perché si passerà dai soliti 25 watt insomma iphone potrà supportare fino ad una ricarica massima di 40 watt quindi questo ci permetterà in parole povere di poter caricare il nostro smartphone in meno di un'ora nuovo processore a 18 e solo da questa piccola frase che esperti di voi avranno notato una cosa molto interessante solitamente i modelli base successivi prendevano sempre il processore del modello pro passato questa volta invece cambia e perché questo molti dicono probabilmente perché sarà necessario per sfruttare appieno il campo dell'intelligenza artificiale che come sappiamo negli ultimi anni si è evoluto tantissimo ed ultima novità sì per importanza i nuovi colori sono ufficialmente usciti avevo già detto nello scorso video che rimarranno chiari come al solito ma non nello specifico abbiamo precisamente il rosa il viola il verde il giallo e il blu praticamente uguale a quelli dell'anno scorso bene ora vi ho descritto tutte le novità che si sanno fino a questo momento quindi adesso avendo ascoltato attentamente il video vi direte voi sotto nei commenti se secondo voi ha senso passare al modello successivo per oggi è tutto ci vediamo in un prossimo video ciao